Raffaella Carra e Porto Santo Stefano per sempre intimamente legati. In una giornata primaverile si sono ritrovate le istituzioni montargentarine e le persone vicine care alla Raffa Nazionale per inaugurare ed intitolare il nuovo parco giochi di Via della Vittoria. Quella dedica c'è sia all'amore nostro per lei, sia all'amore del Carra per l'argentario e per i bambini. E crediamo che il fatto anche di averla onorata, dandole la cittadinanza onoraria, sia un'ulteriore dimostrazione di quanto noi tenessimo la sua presenza qui all'argentario e di quanto noi l'avessimo apprezzata. La mattinata si è conclusa al cimitero dove il parroco Don Sandro Lusini ha benedetto la cappella recentemente rinnovata e dove è stata installata una lapide a memoria di Raffaella Carrà. Una scultura realizzata in marmo bianco delle apuane che vuole rappresentare la grandezza della celebre artista. Il monumento è raffigurato dal suo volto, da una stella e dal simbolo dell'infinito. Il tutto è sorretto da due mani forti, vigorose e senza tempo, così come la nostra Raffaella. Poi procederemo alla quarta iniziativa, perché erano quattro gli impegni che avevo preso con la famiglia, che sarà quella di istituire un premio annuale fisso a fine stagione. Lo faremo quest'anno in collaborazione con la Fondazione Raffaella Carrà, i cui dettagli stiamo ancora studiando.